siamo arrivati ragazzi siamo arrivati nel nuovo parcheggio per questa sera non Ciao la BOMBOLO siamo stati in germania abbiamo fatto un po di spesa e adesso mangiamo aperitivo con il sushi adesso ci facciamo un bel caffè e per questa sera una bistecca da 500 grammi non ce la toglie nessuna